Preghiera del mattino Infondi in noi, Signore, lo Spirito Santo, perché sappiamo scoprire le Sacre Scritture e vivere ogni giorno secondo questo Spirito. Permettici, Signore, di vedere tutta la prospettiva di salvezza che Tu ci mostri dai tempi della creazione dell'uomo, perché possiamo giungere alla Tua dimora senza l'ombra di un dubbio. Amen.